Penso che 5 Stelle ha evocato in modo moralistico il tema onestà, 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 l'ha usato come una clava contro i suoi avversari politici e poi si scopre che in realtà avevano e hanno degli scheletri nell'armadio. Allora bisognerebbe nella vita essere più prudenti e soprattutto avere maggiore rispetto di se stessi e degli altri.